Dopo quasi un mese di sconti panini che i ragazzi mi hanno prosciugato il portafogli, eccoci qui di nuovo per vedere che cosa ci siamo portati a casa in queste settimane in cui non abbiamo fatto altro che parlare di panini, cazzo. Lo so che sono scomparso dalla scena per una buona settimana abbondante, forse anche due, no dai, una decina abbondante di giorni. Portate pazienza, quindi avevo bisogno un attimino di dedicare un po' di tempo a me stesso, ma ora tutti calmi, tutti tranquilli, rieccoci qui pronti per parlare come al solito di manga, fumetti e minchiate varie. Ma poi provate a pensare un attimino, ma potrei mai aver acquistato in queste tre settimane solo roba dal sito panini? Neanche un vintedino oppure una capatina in fumetteria? Ovviamente sì, infatti oggi ci spareremo un bel po' di robetta arraffata proprio secondo queste belle modalità. Prima di cominciare credo di dovervi ringraziare infinitamente tutti. Abbiamo superato i 430 iscritti e in moltissimi si sono iscritti dopo il mio video sugli sconti panini comics, quindi benvenuti a tutti, dove ho fatto più di 1500 visualizzazioni, cioè mindblowing, cazzo. Non lo dico per vantarmi o per tirarmela ragazzi, come ben sapete io non guadagno un cazzo di nulla da questo canale, ma la cosa che invece mi fa più piacere in generale, in assoluto ovviamente, è la soddisfazione, comunque nel vedere che qualcuno insomma mi si incula, ecco, detta proprio papale, papale, ecco. Quindi grazie a tutti i vecchi sostenitori del canale e grazie ai nuovi che si sono appena uniti a questo mio progetto. Aspetta un attimino, ma... Cosa? Non ho sentito bene. Non ti sei ancora iscritto? Ma che cazzo stai aspettando? A parte queste gringiate che non so da dove io tiri fuori, ricordatevi di consumare ragazzi il tasto dei like e di iscrivervi qualora appunto non l'abbiate ancora affatto. Nessuno vi minaccia con la mazza, state tranquilli, vi aspetto fuori casa. In descrizione trovate anche tutti i miei social. Due, Instagram dove pubblico storie delle mie letture ed il gruppo Telegram dove potrete entrare a far parte di una community di accumulatori e arraffoni compulsivi che non riescono a smettere di comprare fumetti proprio come il sottoscritto. Dette le solite minchiate ragazzi, cominciamo. Come si suol dire, bando alle ciance. Cazzo io, quanto odio quando dicono così. Bando alla calunnia, alla fandonia e allo sproloquio e cominciamo a parlare di fumetti. Partiamo dai manga, miei pro di giovanotti. Primo titolo di questi recuperi, i volumi 14, 15 e 16 di tracce di sangue del maestro Shuzo Oshimi. Ragazzi, sono indietrissimo con la lettura di questo titolo, sono più o meno arrivato al volume numero 6. Un manga che per quello che sono riuscito a leggere lascia veramente sbigottiti e anche straniti dall'ossessione appunto che si va ad osservare vera e propria di questa madre nei confronti del proprio figlioletto. Teniamone in mano solo uno, altrimenti qui cominciamo già male. Un problema che ragazzi mi rendo conto non essere solo di natura mentale, una storia che oltre alla follia sembra voler comunicare anche la presenza di cicatrici davvero profonde all'interno dell'animo di questa madre. Ovviamente le mie parole non intendono giustificare alcuno di questi comportamenti direi squilibrati a cui qui dentro ci troviamo ad assistere. In ogni caso posso dirvi che si tratta di una lettura piuttosto disturbante che va ad indagare i lati più scuri dell'animo umano. Ci viene raccontato un amore a dir poco malsano, lo descriverei io, un amore appunto che sfocia nella morbosità, nell'ossessione ecco, e nell'iperprotettività appunto di una madre. Molto molto bello ragazzi, io questo titolo ve lo consiglio caldamente, peccato che almeno per quanto riguarda i primi volumi il manga per quanto mi riguarda appunto scorra via anche un po' troppo velocemente. Boh, io credo di non aver impiegato più di 20 minuti, toh, mezz'oretta per ognuno di questi Tankobon, scorrono via insomma che è una meraviglia. Non so se i prossimi volumi, guardate qua che bella splash page inquietante, non so se i prossimi volumi saranno più discorsivi, io per certi versi lo spero, solo per un fattore appunto di intrattenimento che io vorrei fosse più duraturo. Non si tratta infatti di una critica, ma appunto più di un mio capriccio in questo caso. Anzi, il fatto che il manga appunto si concentri più sugli sguardi tra i personaggi, oppure su poche parole dirette e cariche di espressività, con messaggi diciamo quasi velati, e che questo ragazzi si possa intuire in maniera super chiara e leggera da parte del lettore, tutto questo insieme di cose secondo me rende questo manga davvero formidabile. A volte infatti il silenzio riesce a comunicare quasi più dei balloons, no? In alcuni manga, in alcuni fumetti. L'unico che insomma mi ha suscitato questa sensazione finora è stato Giro Taniguchi. Shuzo Shimi è il secondo infatti che riesce a farmi notare questa cosa con una forza così dirompente. Prezzo di 7 euro a volume per Planet Manga, pigliatelo ragazzi, ora che li hanno anche ristampati, e approfittatene una bella storia matura questa, che vi consiglio assolutamente. Fuori dai coglioni i primi tre. Passiamo ora invece a qualcosa di più leggero ragazzi, ovvero Claymore del maestro Noriro Yagi, volume numero 16. Questo qui ero rimasto un attimino indietro con la lettura del numero 15, ma insomma ragazzi tranquilli, mi sono rimesso in pari. Continua quello che è il viaggio di Clara, la ricerca in questo caso del ragazzo che lei stessa aveva salvato appunto nei primi volumi della serie. L'equilibrio piuttosto direi critico, instabile, tra quello che è il potere degli abissali e l'associazione delle Claymore, sembra avere subito un pesante sbilanciamento, soprattutto al termine di questo volume, in favore di una delle due parti. Quale sarà la parte? Mo' pigliatevelo e leggetevelo. Credo sì, e vedranno a breve una bella dose di azione e combattimenti proprio all'ultimo sangue, sgozzamenti, teste che volano. Come sempre lettura piuttosto leggera, dark fantasy appunto medievale, ormai sempre le solite tre parole, dark fantasy e medievale, che sono stufo di ripetere ormai da 16 numeri, ma però ragazzi è così e mi piace, quindi te beccatevelo. Quindi mostri, donne assessuate dai poteri sovrumani, segreti da svelare, e una protagonista che di volta in volta sembra diventare sempre più forte, ragazzi, ecco questo è il manga. 5,90€ per Star Comics, consigliato come sempre, come dico sempre, soprattutto agli amanti del genere. Prossimo manga, volume numero 3 per Blue Giant Supreme, ad opera di Shinichi Ishizuka, mangaka ragazzi per cui non smetterò mai di fare il tifo. E ragazzi, non si può nemmeno smettere di fare il tifo per Dai Miyamoto, il gezzista che è protagonista di questa storia. Volume 3 di questa seconda parte della storia, che è stata ambientata per scelta dell'autore in Europa, quindi con precisione inizia ad essere ambientata in Germania, per poi spostarsi un attimino nei paesi del nord Europa. Quindi dicevamo, volume 3 di questa seconda parte della storia, che per quanto mi riguarda è stato il volume che finora mi è piaciuto più di tutti. Non che succedano cose rocambolesche o chissà che azione qui all'interno, ma comunque ho trovato che le pagine all'interno di questo numero in particolare ti tenessero veramente incollato al manga. Cioè l'ho veramente letto tutto da un fiato e ogni volta che voltavo pagina non vedevo l'ora di vedere cosa cazzo stava succedendo. E non stiamo parlando di chissà che scene d'azione, cioè stiamo parlando semplicemente di cose e problematiche della quotidianità inserite all'interno del contesto della band formata a cui capo c'è Dai Miyamoto. Un fumetto quindi sulla musica che ci mostra i rapporti che sono intrapersonali tra i vari membri appunto della band, tra cui ovviamente ci sono anche delle teste calde. Bruno il pianista, giusto per nominarlo, visto che un pochettino sul cazzo sta anche a me. Ragazzi, un fumetto che consiglierei a tutti, io vi assicuro che vi terrà incollati alle pagine e lo divorerete senza nemmeno rendervene conto. Bellissimo. Un manga che mi ha fatto anche avvicinare la musica jazz di cui io metallaro a bestia, non spero proprio un cazzo di nulla. Ora quando leggo i nomi dei grandi jazzisti che sono pronunciati, che sono inseriti all'interno del manga so anche a grandi linee di chi si sta parlando, ovviamente nei casi dei più famosi non sono per nulla un intenditore. Fidatevi ragazzi, magari le prime battute non vi faranno, non vi sembreranno nulla di che, ma il manga è un crescendo continuo, giusto per tirar fuori qualche tema musicale, qualche parola, termine musicale. Io non oso immaginare dove ci porterò il buon Shinichi Ishizuka con la sua musica, perché qui si tratta di questo, musica a fumetti. Davvero bellissimo, magnifico. Passiamo ora invece ad un manga che io non credo sia una lettura adatta proprio a tutti, ovvero Irene of Love di Hideki Arai, o Irene of Love, come cazzo lo volete pronunciare. Diciamo che se c'è scritto Of Love si presuppone che il titolo voglia essere in inglese, quindi gli inglesi non direbbero, non pronuncerebbero mai Irene, ma penso pronuncerebbero Irene, quindi Irene of Love. Ecco, se ho sbagliato scrivetemelo nei commenti, se ho ragione scrivetemelo lo stesso. Siamo al volume numero 4, scusate, sto registrando in pausa pranzo, quindi sono su di giri perché devo fare in fretta, e sì, ho ancora mezz'ora per finire la registrazione, questa non so se la taglierò, magari ve la lascio così. Entrarete un po' nel mio mood agitato, con il quale voglio finire assolutamente di registrare questo video in pausa pranzo, per poi montarlo stasera e farvelo uscire il martedì. Se ci riuscirò lo scoprirete a breve. Comunque, dicevamo, siamo al volume 4 di questa storia che è molto molto particolare, che va a raccontarci quello che è il meccanismo dei matrimoni combinati in Giappone. Osserveremo un lato del Giappone tradizionalista e decisamente conservatore di quelle che sono appunto le usanze e i costumi. Cosa questa che mi fa girare abbastanza i coglioni a mille, e che ci riporta e che ci parla del lato un attimino più bigotto, scusate, della mentalità giapponese, dove appunto, perché mi fa girare le balle? Perché appunto la donna in particolare viene giudicata solamente in base a quello che è il suo atteggiamento, solamente in base a quello che è il lavoro e la famiglia di appartenenza. La donna giapponese ideale infatti deve essere una brava casalinga, deve essere dedita ad accudire la famiglia e deve essere una macchina figliatrice, cioè una macchina sforna, bambini. C'è chi lo chiama patriarcato, io non sono così ferrato in materia per addentrarmi in queste questioni che io definisco parecchio delicate, ma sicuramente posso capire che il modo di concepire la donna, secondo un criterio tradizionalista come questo, conservatore patriarcale, chiamiamolo come cazzo volete, o con il suo nome anche, che cos'è? È una merda di bovino con le mosche che ci ronzano sopra, la realtà dei fatti è questa, nuda e cruda. In un manga come questo, sebbene si tratti appunto di un manga o di un titolo di metà anni 90, tutta questa puzza di merda si percepisce già dalle prime battute e cazzo. Ragazzi, questo è un elemento che l'autore non inserisce dentro a caso, ma è veramente voluto, è determinante questo elemento all'interno del titolo, appunto perché l'autore ci tiene a stolineare tutti questi aspetti e farli arrivare al lettore, proprio come una fucilata in pieno petto. Secondo me, ragazzi, si tratta di un titolo che risulta quasi più al passo coi tempi al giorno d'oggi rispetto all'epoca in cui è uscito, quindi più o meno 25 anni fa. Molto molto interessante, secondo me è una lettura però, come vi dicevo, che non mi sento di consigliare a tutti. Qui, secondo me, per godere appieno di quello che è il manga, dovrete iniziarlo sapendo un attimino a che cosa andate incontro, o meglio, a che cosa ad offrire questo titolo. La storia infatti vi racconterà non solo le avventure di Irene, questa povera filippina andata in sposa a Diwao, ma vi racconterà un intero contesto sociale dato da quelli che sono gli usi e i costumi che affondano le proprie radici in una tradizione millenaria come quella giapponese. una tradizione che con l'occidentalizzazione dei primi anni del Novecento è andata man mano nel tempo un attimino a scemare, ma che nelle zone più rurali, come quelle appunto raccontate nel manga, come quelle che fanno d'ambientazione al manga, rimane ancora molto ben radicata. Momento quello dei primi del Novecento, in Giappone, piccolo off-topic questo ragazzi, periodo questo appunto denominato Periodo Meiji, Periodo di cui appunto sto leggendo proprio in questi giorni grazie al manga di Jiro Taniguchi e Natsuo Sekikawa, ovvero ai tempi di Bo-chan. Un titolo ragazzi magnifico per quanto mi riguarda, che racconta appunto un periodo di transizione del Giappone sia da un punto di vista sociale, da un punto di vista sì economico, ma soprattutto dal punto di vista intellettuale. Magnifico. Periodo questo di cui ho letto anche un libro di Kazuo Okakura, ve l'ho nominato diverse volte nel canale, ormai vi avrò dotto anche i coglioni, però ve lo nomino un'altra, che beccatevela. Ragazzi, se vi interessa, il libro è La Cerimonia del Tè, ragazzi, se vi interessa la storia del Giappone degli inizi del Novecento, scrivetemi qua sotto nei commenti, che vi consiglio qualcosina da leggere a riguardo, oppure entrate nel gruppo Telegram, così facciamo direttamente prima. Tornando invece al manga di Hideki Arai, ecco che ci ritroveremo quindi di fronte ad una contrapposizione. Tra quello che è l'ideale comune del Giappone, quindi grandi metropoli, negozi di gadget ovunque, sistemi all'avanguardia e multietnicità in ogni dove, tutti elementi questi appunto che verranno, che andranno in contrapposizione alle zone più rurali, piene zeppe di campi di riso e vecchi bastardi bigotti che guardano anche il tizio proveniente dal villaggio vicino come un immigrato clandestino. Quindi penso abbiate capito di che cosa parli questo manga. Un manga quindi dal grande messaggio, senza ombra di dubbio, ma comunque non facile da seguire secondo quello che è il mio modesto parere. In ogni caso continuo a consigliarlo, soprattutto a tutti coloro che vogliono farsi delle letture belle approfondite e che non vogliono limitarsi solamente a leggere un racconto, una storia lineare, una storia qualsiasi, ma che vogliono leggere anche qualcosa che comunichi anche una bella critica a quella che è la società moderna, che ragazzi in questo caso non sembra avere granché di moderno. Ecco, vabbè. 7,50 euro per i cari edizioni, insomma, credo di avere già speso abbastanza tempo nel parlarvi di questo manga. Se mettiamo insieme tutte le volte che ne parlo, con ogni numero che esce, penso venga fuori un video di un'ora. Boh, mi piace troppo parlarne. E ringrazio Sammy, aspettate, ringrazio Sammy per avermelo consigliato, ancora forse a dicembre, e veramente grazie Sammy, i tuoi consigli sono sempre mostruosi. Ringrazio anche tutti gli altri all'interno del gruppo, ma Sammy, insomma, è il più bastardo di tutti perché lancia l'amo e ci fa boccare tutti come dei perfetti stronzi. Anzi, lancia l'amo e proprio ci pela il portafoglio facendo così. Vabbè, dai, chiudiamo qua il discorso. Ciao, Sammy. Passiamo invece a qualcosa di decisamente più easy. Sto parlando di Ranking of Kings, il manga fantasy ad opera di Suzuki Toka. Siamo già al volume numero 6 e questa settimana, purtroppo, non sono ancora riuscito a leggerlo. Come ben sapete, se mi seguite già da un po', Ranking of Kings è uno di quei manga che per quanto mi riguarda io mi sento di consigliare veramente a tutti, soprattutto per quella che è la trama e anche il messaggio che vuole lanciare al suo pubblico. È l'esatto opposto di quella che si direbbe una lettura impegnata. La storia, infatti, e i disegni allo stesso tempo comunicano leggerezza e fluiscono davvero con molta, molta facilità. Non riesco a fischiare con sto pannolone in faccia. Ecco quindi, ecco perché io credo sia un manga adatto veramente a tutti e credo anche che sia un manga estremamente versatile come mi è già capitato di dirvi molte volte già in passato. Insomma, consigliatissimo, insomma, ecco, anche qui, io ve lo consiglio tantissimo. Prendete un attimino le misure, cioè aspettatevi una storiella fantasy con delle, diciamo, ambientazioni abbastanza comuni, abbastanza, diciamo, mainstream, con un messaggio molto carino, ecco. Non profondo e bello, comunque profondo e carino. non so se mi spiego dove voglio arrivare con queste parole. Ecco, diciamo che se volete un fantasy adulto e maturo, beh, non è questo il caso, insomma. Però potete leggerlo comunque perché lo trovo davvero una bella, un bel compromesso, ecco. È proprio, è proprio il manga per tutti questo. Basta che se no continuo a parlare, cazzo. Ultimo volume che non è un manga ma rimane, diciamo, localizzato geograficamente a parlarci comunque di qualcosa di giapponese, è il recente volume Ayao Miyazaki, il sognatore, edito da Oblomov Edizioni, a cura di molti critici ed esperti, appunto, in materia. Io adoro assolutamente Miyazaki per quello che è il suo Nausicaa della Valle del Vento, non tanto per il film, ragazzi, ma proprio per il manga, mentre per quanto riguarda il suo cinema d'animazione, invece, devo dirvi assolutamente quella che è la verità dato che sono parecchio indietro con quelli che sono i recuperi dei suoi film. Ho visto Il Ragazzo e Lairo nel Cinema, un film che mi ha lasciato, diciamo, di stucco e che ho trovato davvero molto diverso rispetto a tutti gli altri film da lui curati e che sono riuscito a sgamarmi. Ho visto, infatti, tra quelli che ho visto, infatti, ragazzi, ci sono Porco Rosso, molto molto bello, poi ho visto anche La Città Incantata, proprio l'ultimo appunto tra quelli che mi sono sgamato recentemente e che mi è piaciuto tantissimo e poi ovviamente ho visto anche Nausicaa della Valle del Vento. Forse Nausicaa è quello che tra tutti mi ha deluso un po' di più, tanto, non tanto perché sia brutto, ragazzi, ma perché purtroppo un finale così veloce e raffazzonato non tende a rendere giustizia ad un'opera davvero completa come quella del manga scritto da Miyazaki. Questo accade ovviamente per varie ragioni di cui non staremo qui a discutere. In ogni caso, insomma, concludo dicendovi che se dovesse stilare una classifica tra quei pochi film d'animazione di Miyazaki che ho visto, Nausicaa sarebbe sicuramente all'ultimo posto come film d'animazione, mentre per quanto riguarda il manga lo metterei addirittura nella mia top 3 manga preferiti di sempre. Veramente un cazzo di capolavoro. Prendetelo, compratevelo, leggetevelo, punto, tri punto, pentapunto, punto di domanda. Ma chiuso il siparietto top manga, top anime, top scorreggio imbottigliate, cosa posso dirvi di questo volume? Io stavo già mettendo via tutto. Il libro, ragazzi, è una raccolta di tutte quelle che sono le fatiche del maestro Miyazaki. Guardate qui che bello. Igort, vediamo se ve lo posso mostrare. Igort e Porco Rosso abbracciati insieme. Un po' cringe, detta così, comunque vabbè. Un libro, questo appunto, dove ci verrà raccontata tramite la voce di molti esperti e cultori di questo medium la vita del padre dell'animazione giapponese e ovviamente poi tutto quello che è il percorso che lo ha portato alla creazione di tutti i suoi film, in particolare il percorso che l'ha portato poi anche alla creazione del ragazzo e l'airone. io non avendo appunto visto come vi ho già detto tanti film da lui prodotti per riuscire a capire meglio il ragazzo e l'airone ma anche molti altri suoi titoli credo mi affiderò volentieri a questo volume che per quel poco che ho letto finora perché qualcosina sono andato a sbirciare vi dico che è fatto davvero molto molto bene ve lo assicuro. Assolutamente secondo me imperdibile per tutti quelli che sono i fan del maestro Miyazaki e anche per chi insomma vuole approfondire e iniziare anche a conoscere tutte le sue opere d'animazione prezzo di 20 euro tondi tondi ragazzi guardate che bella questa immagine della città incantata sul retro 20 euro tondi tondi io io lo prenderei a priori ecco cioè siete fan dell'animazione questo è questa è un'antologia una specie di biografia lavorativa mettiamola così non si dice così sono un illetterato perdonatemi ma io insomma non me lo farei sfuggire basta se no continuo a fare stronzate questa volta prima di passare per il fumetto americano ragazzi andiamo invece su quello italiano beh come al solito come primo titolo abbiamo l'albetto di drago nero che ogni mese metto in saccoccia serie ragazzi che è inutile che io vi dica di cui sono innamorato album numero 17 questo sì il sapore della vendetta 17 del mondo oscuro appunto dove all'interno troveremo se non sbaglio due storie esatto la prima ragazzi sceneggiata da Stefano Vietti e con i disegni di Vincenzo Ricciardi il volume non l'ho ancora letto infatti sto accumulando un bel po' di numeri per fare poi una full immersion dicevamo disegni di Vincenzo Ricciardi che ragazzi sono davvero bellissimi guardate qui che robetta seconda storia invece intitolata il racconto della strega con sceneggiatura di Luca Enoch e disegni di Lorenzo Nuti che vi mostro in super velocità eccoli qui sarò anche un po' stronzo ragazzi ma io preferisco di gran lunga i disegni della prima storia a quelli di Ricciardi rispetto a questi non me ne vogliate insomma vabbè io devo sempre parlare e dire qualcosa magari di troppo in ogni caso meglio così prezzo di 4 euro e 90 per Sergio Bonelli quando avrò letto tutta la saga del mondo oscuro come vi ho già detto vi farò un bel video recensione completo su quali numeri vale la pena mettere in saccoccia e quali invece possiamo reputare un po' dei filler su cui nemmeno andare a spendere i soldi rimanendo poi sempre sul fumetto italiano ragazzi ancora qualche settimana fa ho trovato sul sito di Canicola a metà prezzo un paio di titoletti davvero molto interessanti che avrei voluto recuperare già da prima che ovviamente poi no visti a metà prezzo di sicuro non si potevano lasciare lì no infatti guardate padre Pio ho le mani bucate ormai mi chiamano così nel gruppo anzi qualcuno mi chiama così non tutti prima di questi fumetti Viaggio a Tokyo di Vincenzo Filosa un fumetto scritto nello stile tipico del manga che ci racconta appunto come dice il titolo stesso di Un Viaggio come potete vedere la peculiarità di questo fumetto però ragazzi è che non si tratta altro che di un enorme omaggio a quella che è la cultura giapponese del manga in particolare al manga del dopoguerra e della fine degli anni 50 ovvero il mio amato Gekiga sfogliando il fumetto potrete notare come il disegno faccia un chiaro riferimento al tratto tipico dell'epoca al quale alla quale Vincenzo Filosa vuole fare riferimento quindi un disegno che si ispira ovviamente al tratto dei grandi disegnatori e dei grandi sceneggiatori mangaka di fine anni appunto 50 quali possono essere Yoshiro Tatsumi con le sue prime storie brevi che appunto ho potuto leggere in crocevia oppure i fratelli oppure i fratelli Tadao e Yoshiharo Tsuge con i loro Neji Shiki o L'uomo senza talento nel caso del primo e la mia vita imbarca nel caso del secondo per quanto riguarda il secondo insomma un grande omaggio ad un mondo che Filosa conosce veramente a menadito che conosce veramente molto bene e che per certi versi ragazzi lui punta a far conoscere anche a tutti coloro che non sanno nulla di quella che è la nascita del Gekiga Gekiga ragazzi senza il quale non stringeremo tra le mani alcuni dei capolavori più belli di sempre prezzo di 17 euro di copertina pagato 8 euro e 50 direttamente preso da Canicola dal sito di Canicola sempre di Vincenzo Filosa ho recuperato Figlio Unico altro fumetto ovviamente di Canicola preso sempre a metà prezzo pagato 9 euro al posto di 18 euro ragazzi quando ho visto questo titolo mi sono detto se il viaggio a Tokyo in un certo senso rispecchia il Gekiga non vorrei mica vedere che questo figlio unico invece è una sorta di Watakushimanga quindi una sorta di manga semi-autobiografico dell'autore e ragazzi magari è un po' forzato parlare proprio di Watakushimanga ma credo insomma di averci preso almeno in parte per quanto riguarda un attimino anche la trama l'unica pecca di questi volumi cazzo è che non ci sono postfazioni o prefazioni mi sarebbe piaciuto sì in viaggio a Tokyo c'è una postfazione con un'intervista direttamente a Vincenzo Filosa mentre per quanto riguarda figlio unico non c'è scritto un cazzo di niente questo mi fa questo mi dispiace un pochettino dato che io sono sempre curioso amo drogarmi di informazioni e approfondimenti comunque vabbè sono proprio curioso di vedere cosa ci proporrà il nostro Vincenzo sfogliando anche questo titolo ragazzi il disegno ovviamente adesso ve lo mostro va a richiamare lo stile Gekiga insomma tutto molto particolare vedremo che cosa che cosa ci racconterà difetto ragazzi qui sulla copertina anteriore vedete che c'è uno spiegazzamento decisamente più evidente rispetto ai difetti di viaggio a Tokyo ma ragazzi si tratta di volumi Second Chance quindi aspettatevi che arrivino con qualche piccolo difettuccio ultimo volume che ho preso sempre da Canicola con Second Chance quindi fumetti appunto leggermente rovinati o con qualche piccolo errore Sad Boy di Berliac un fumetto questo non più italiano bensì di un autore argentino il fumetto parla appunto di Sad Boy un ragazzo orfano straniero che vive nei paesi scandinavi non sentendosi però perfettamente integrato e in un certo senso probabilmente non desiderato Sad Boy diciamo che otterrà una sorta di rivalsa dandosi alla criminalità un fumetto questo che non ho preso poi così a caso ma di cui avevo sentito le polemiche che era riuscito a sollevare anche in questo caso abbiamo uno stile di disegno che vi rimostro non so se l'avete notato richiama un attimino il Gekiga non a caso tutti e tre questi titoli di Canicola che vi ho mostrato possono essere definiti tutti Gaijin Gekiga ovvero tutti fumetti occidentali ad ispirazione Gekiga un titolo molto particolare che voglio assolutamente leggere per capire proprio per quale motivo siano state mosse accuse di transfobia nei confronti dell'autore insomma staremo a vedere prezzo di 16 euro pagato 8 euro tondi tondi bene ragazzi abbiamo finito con Canicola quindi possiamo finalmente passare al fumetto americano primo titolo di oggi partiamo con Star Wars l'alta repubblica battaglia per la forza secondo volume cartonato della fase dell'alta repubblica questa serie di Star Wars che ci racconta il periodo di massimo splendore dell'ordine Jedi Jedi questa seconda fase dell'alta repubblica ragazzi dovrebbe fare un salto indietro nel tempo di ben 150 anni rispetto appunto a quella che è la fase 1 mentre la fase 3 che sarà in arrivo successivamente a questa riprenderà da dove la fase 1 ci aveva lasciato un discorso un attimino complicato quindi in poche parole la fase 2 è un enorme flashback della fase 1 quindi un po' complicato ma se seguite la serie non credo vi sarà difficile da capire all'interno di questo cartonato ragazzi troverete i numeri dal numero 6 al numero 10 dell'alta repubblica al prezzo totale di 18 euro storia di Cavan Scott ormai veterano nelle testate di Star Wars disegnatore principale a Nindito che vi mostro con interventi vari di Broccardo Messina e Cresta disegni ragazzi devo dirvi che insomma non mi dispiacciono mai troppo per quanto riguarda appunto questa testata non assolutamente i migliori in circolazione ma comunque ragazzi si fanno leggere ben volentieri prossimo volume ragazzi cambiamo completamente casa e andiamo su Saldapress secondo ed ultimo purtroppo volume di Arrow Smith di cui vi ho fatto anche una recensione recentemente per quanto riguarda il primo ciclo narrativo che è appunto il volume 1 di questa edizione fumetto ad opera di Kurt Busiek e del compianto Carlos Paceco Paceco ragazzi che purtroppo è venuto a mancare nel 2022 in modo abbastanza prematuro lasciando quindi incompiuta questa sua opera a cui stava lavorando da anni assieme a Busiek spero che ragazzi qualcuno in qualche modo voglia portare avanti questa serie chissà la serie è interrotta al momento sarebbe bello vederne un proseguo velocemente vi dico che appunto si tratta di una serie fantasy ambientata nella prima guerra mondiale dove appunto le armi non saranno pistole cannoni lancia granate lancia fiamme bensì delle armi di natura magica quindi delle armi fantastiche armi che appunto sembrano però celare dei terribili segreti e che potrebbero portare l'umanità verso la completa distruzione ed estinzione vi mostro al volo i disegni di Paceco disegni secondo me davvero molto molto belli con delle ottime colorazioni oltretutto che non sono ad opera sua ma comunque c'è un colorista dedicato di cui non mi ricordo il nome penso sia José Rafael Fortériz e José Villarubia penso siano loro sono due persone diverse tutti e due José a quanto pare un fumetto di guerra un fumetto insomma di ideali anche ideali infranti per lo più che ci racconta la totale brutalità della guerra prezzo di 24,90 euro per Salda Press insomma ecco vedete un po' voi io ve lo consiglio sappiate che non è concluso e probabilmente magari non vedrà mai la sua conclusione purtroppo passiamo ora invece a quello che è stato il titolo del gruppo di lettura di questo mese ovvero la mia cosa preferita sono i mostri di Emil Ferris ragazzi non vi dirò proprio niente a riguardo anzi vi dirò pochissimo ovviamente l'ho già letto e a breve uscirà il video recensione per quello che è il gruppo di lettura quindi mi risparmierò per il video appunto che sarà dedicato appositamente a questo volume quello che vi posso dire è che si tratta di un'opera secondo me davvero magnifica non ho altre parole per descriverlo sia per quella che è l'impostazione grafica ovvero quella di un diario scritto su fogli ad anelli cosa assolutamente pazzurda questa e sia anche poi per la storia che Emil ci racconta una storia anche questa semi autobiografica ma ovviamente romanzata inserendo all'interno di questo volume una marea occhio qui ci sono delle tettazze una miriade di elementi che spaziano dal fantastico al grottesco alla narrazione vera e propria di fatti storici realmente accaduti un fumetto bello intricato bisogna ammetterlo forse la lettura più difficile che è stata fatta finora dal GDL difficile non perché serva una laurea per capirlo ma difficile per via della sua discorsività come potete vedere e del bombardamento a cui ci sottopone quest'opera grazie soprattutto anche ad una buona componente di chiamiamola meta fumettistica insomma io senza scendere ancora nel dettaglio vi dico provatelo e non ve ne pentirete assolutamente io sono davvero felice che sia stato scelto e l'ho trovato davvero fantastico ragazzi a breve poi uscirà il secondo volume sempre per Baopublishing sappiate che io lo attendo con estrema gioia vi mostro ancora per quello che mi è possibile il tratto di Ferris sembra ragazzi di sfogliare appunto in alcune circostanze il diario di una ragazzina oggetto questo che il fumetto tenta appunto di replicare e anzi direi che ci riesce anche piuttosto bene si passa da disegni caricaturali fino ad arrivare a volti realistici per ripassare poi a dei semplici scarabocchi assurdo ragazzi veramente l'impatto grafico infatti è veramente molto molto forte credo che ogni pagina sia una piccola opera d'arte come potete vedere si tratta anche di un fumetto bello bello corposo dal punto di vista del testo come vi ho detto prima ma fidatevi non spaventatevi io l'ho letto in due colpi in due sere diverse vi dico che mi è piaciuto davvero moltissimo e che mi ha tenuto incollato alle pagine prezzo un po' altino però di 29 euro giustificato però dal formato dai disegni a colori e dalla qualità dell'edizione che comunque oltre ad essere molto bella è molto versatile da leggere conta anche ragazzi un gran bel numero di pagine guardate che grosso basta insomma credo di aver già detto troppo per questo video aspettate il video dedicato ultimo volume arraffato da Vinted invece questa volta omnibus volume numero 6 quindi volume conclusivo di quella che è la raccolta di libri a fumetti dedicati ad Hellboy per Magic Press possiedo già i primi 4 tutti arraffati a metà prezzo o addirittura a meno sempre su Vinted volume numero 6 ragazzi che come potete vedere è ancora incelofanato comprato su Vinted a 25 euro e non sto scherzando non sarà metà del prezzo ma ragazzi è nuovo è ancora imbustato come appena uscito dalla fumetteria come cazzo si faceva a lasciarlo là non si poteva ovviamente no per chi fosse interessato sappiate che la saga di Hellboy completa è contenuta nei primi 4 omnibus è che i volumi 5 e 6 contengono solo un comparto di storie brevi che però vanno diciamo a completare un attimino ulteriormente i vari tasselli della storia principale qui dentro nel volume 6 ci sono raccolte tutte le storie brevi dal 1961 al 1993 per un totale di ben 17 storie brevi tutte in ordine cronologico io direi niente male andiamo ad aprire insieme questo volume quindi momento asmr ecco che ho già fatto pezzi che bello vi mostro al volo i disegni ragazzi non credo ci sia molto da dire si tratta comunque di Hellboy un fumettone incredibile che appunto va ad unire il folklore a dei racconti orrorifici un fumetto secondo me da leggere soprattutto per gli amanti di queste atmosfere cupe e misteriose prezzo di copertina di 40 euro pagato intorno ai 28 29 euro se contiamo anche la spedizione cazzi e mazzi su Vinted direi comunque un gran bel a chiappo a raffo a fare come cazzo lo volete chiamare con questo siamo giunti alla fine di tutti quelli che sono stati gli acquisti di queste settimane io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine vi avverto che purtroppo sono caduto vittima della tentazione e che ho fatto un ordine last minute sul sito panini e che ragazzi vi mostrerò la prossima settimana quindi mi raccomando rimanete sintonizzati iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti gli aggiornamenti e tutti i miei disastri finanziari mettete anche un bel like se il video vi è piaciuto e se vi va date un'occhiata a quelli che sono i miei social qui sotto in descrizione troverete come vi ho già detto instagram e del mio canale telegram dove potrete venire a parlare con un bel po' di invasati e dove potrete venire anche voi a mostrarvi tutti i vostri acquisti della settimana sì perché io sono super curioso non mi resta che mandarvi un caloroso saluto e di augurarmi di rivederci ad un prossimo video ciao a tutti